Buongiorno, ecco la storia di Ciccered, c'è solo da prestare un po' attenzione al fatto che qualche volta interviene l'autore, questo fantomatico autore, a discutere con i suoi personaggi, sono espedienti vecchi, ormai non fanno più neanche notizie. Vabbè, Ciccered, passi affrettati, respiro affannato, Teresa rientra in casa, o meglio si precipita dentro, un'occhiata al piccolo Vincenzo che dormirebbe beato se il sudore che lo avvolge non ne rivelasse la fatica del suo cedere al sonno. Dalla camera de Rosette e de Truzzetto giungono parole improvvisamente trattenute, code di parole, ormai sussurri, bisbigli, Teresa sarebbe sul punto di pensare quello che ha sempre pensato di quei due, ma stasera no, stasera non si sente autorizzata. E parre proprio tu, se lo domanda da sola. Una carezza al piccolo, quasi ad asciugarne il sudore, ma ritrae subito la mano, qualcosa la frena, si sente impura, Teresa, impura e indegna di quella serenità che il contatto con Ciccered le ha dato, le sta dando. Amara mia che patuto, pensa. Che lo maledetto, e già pensa come e quando potrà rivederlo. Che lo diavolo, che la tanta azione, ma che neppo, che tena di tanto speciale su Ciccered, un se dono a pace la povera, un se dono a pace, ma si è di trattenere. Ognuno dorme, e che ridui da dentro su una vigliante, e come su una vigliante, volesse aggredare senza essere sentuta, la cristiana. Teresa, Teresa, è la voce dell'autore, Teresa, in crescendo di persuasione la voce ripete per tre volte, sempre tre, o sette, o tredici, che è l'agne, il nome della donna. Teresa, 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 di profilo, ma le pure risponde la chissà, tanto fa tutti ma si può dire all'autore che va trovando, e poi si è mastuto andando a botta sola, se mi cancello due copioni. Teresa, sempre più suadente, la voce ripete, Teresa, che dè? Teresa, tutta continuosa. Teresa, c'è, cosa si è vinto a malamento? Non sa ci com'era avanti, ma domandano ai vicensi, due piccoli, e chi ne è scontente, ma non troppo a giudicare dei rumori di fondo, eppure di te mi domandano, e adesso ci c'è reddito. Quale c'è reddito dell'America? Ti re, e mi risponde così? E poi te lo hai detto mille volte, ti pensassero un po' la coscienza. Una detenente di Vicenza, e i figli, e ne putta, e ti sei giuscato per uno strano. Strano, no, eh? Eh, Teresa, Teresa, ma va bene, allora, non ce le mi sienta questa storia a Cicciaredi, piuttosto a Vicenza dove l'ha ammucciata, a Vicenzo meglio. Vicenzo tutto io. Vuoi che lo faccio comparire a Vicenza, ora, una volta, una volta, o vuoi che aspettano tant'è? Che ti combina? Questo è l'autore che parla. Ma chi c'è Vicenza? Stiamo parlando, stiamo parlando delle cose da, come si chiama? Gruagnuno, Francesco, franguzzo, come l'hai chiamato? Francescuzzo meglio. Cicciaredi ti pareva brutto, eh? Eh sì, no, guagnuno, Cicciaredi mi pareva brutto, ti pareva brutto, ma davvero. E Censi, Censi Netto ti pare meglio. Ma a Vicenza l'hai chiamato sempre Vicenza. Perché mi fai così, ma? Perché te la merda? Non ti hai potuto lasciare un attimo. Un attimo. E qual è stata l'ultima parte che mi ha donato? Da questa commedia. Anzi, la parte mi sta facendo ora. Ma. L'ultima parte è negra tanto la mente, buono buono. Ma se ti dispiace. Guà, ti faccio vedere che stanno facendo ora. Proprio in questo momento che sta succedendo. Anzi, no. Chiedi che è successo dopo che te ne si faiuto facendo come una paccia. Palo della luce. Ciccere, signor Cabunchio mi deve chiamare. Che te, bene o me? Non ti senti buono. No, tu ti senti qui contro. Non ci credi che veniva. A dove va? Vieni qua. State fermo. E così, un timore, gioia a me, un timore. Cos'è pace, cos'è pace. Tu mi fai nascere pace a me. Tu mi fai nascere pace a me. Ciccere, fuma. Si fumasse pure a paglia di un mast. E intanto pensa. Da che l'ana si aiuta a me entrare. Ma quando se ne va a chi? Non ci può dare novità che si piene tutto il brazzo. Il brazzo. E ferma, l'antica, mi sta rascando tutti quanti i brazzo. A com'era Mariangelo si scocca di Ciccere, tra uno e l'altro, una finisce di su mangiare con l'occhio. Ma ora, calata la passione, l'ha domandato a qualcuno. E se, ma c'era anche uno. Ma pareva che non era solo. Sicuro che era solo? Ciccere, dicendo, pensa. E chi ne l'ha detto che era solo a che si accade? Solo. Solo un esempio. Solo che non posso dire. né quanti sogni solo, né quanti sogni accompagnati. A che storia mi avessero ammazzato in un bel due pezzi? Un'esima scolona di marito di vostro. E' certo che mi avessero già ammazzato. Mariangelo, insistente. Era solo. Parra, diciamelo. C'era anche uno. Anzi, anche una. Anche una femmina. Lo sai che se vieni a sapere una cosa è che se ti scippò il cuore e mi mangi. Tu solo. Do me a essere. Tu solo do me ad essere. Hai capito? Sì. Solo tutto. Come no? Pensa Ciccered. La donna si lascia andare ad un'altra carezza prima di sparire. Una carezza che sa di carta vetrata sul ventre di Ciccered. un bacio che è un morso sulle labbra del giovane. E via. Ricordate che ti ha detto. tu sei solo do me. E Carminelli? 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 A domani? Ti fa il suo segnale. Sempre da così. Cominciano sempre con Ciccerè e finiscono con Francescuzzi. Oramai, ogni domanda, tutti quanti si filmano. Se mi chiamano Francesco vuol dire che sono contento. Ciccered si avvia verso la sua casupola. due locali in un basso decrepito. E' l'autore che parla, la voce. Terè, hai visto? No. Non è possibile. Non è possibile. E gli è? Maleditto. Un maleditto. Un maleditto che vuoi essere. Terè si è stravolta. L'istinto è quello tragico greco. Ma proprio greco del polonese interno. E si è traricapito l'istinto. E si è strazzato la veste. Ma che mi ha fatto fare? Che è che hai fatto? E chi sarà la parte che mi volevi far fare? Maleditto. Un maleditto. Tu un autore e ciccered, due spioggiati che vuoi fare un gremio giallo e la morta mai. Ma come ha potuto? E se sapesse Vicenzo? Vicenzo. Vicenzo per me è come Carmened. Buono buono, non sa niente. Anzi. Poi, almeno Carmened è contento. Vicenzo invece... Nooo! Se non mi sento niente. Urlo della donna. Non lo dirò. Non ti permettono. Vicenzo non è come tu. E allora che dè? La voce. Impassibile. Vicenzo è Vicenzo mai e di nessun'ata. Sì, Vicenzo è tutto l'autore, eppure ci ci ha red. Anzi, Francescozzo. E chi sa che non lo dice? Io ti dico. Sono l'autore. Non ci può fare niente. Ma anche io ci posso fare niente. Ma ognuno mostrerò sotto, te ne? Ma loro si è proprio tosta, te ne? Ma ti faccio vedere una cosa. Guarda qua. Acumara Mariangelo. Carmened è in tuo letto su Banufranco. Si sta rattando la schiena con una mano. Ratta, ratta, mi ha dato la mano da menzina da moglie. E se è una che a Mariangelo non c'è. Ogni tanto mi scappa Acumara Torra, ma è Acumara Mariangelo. Acumara scivola nel letto quasi contemporaneamente alla scoperta o alla domanda del marito. Scaltra, con voce da mezza addormentata, domanda Che te? Che ha perso? Che va a trovare? Tu, chi è tosta? Dove? Che ci va a trovare? Ma sono una zata che mi ha raccordato mentre lo carbonato non ci ci ha red. Trasalendo, pensa Che cacchio? E' detto ci ci ha red o ci ci ha red? Ma tante figure si se ne accorge su un tempo. E ora ci ha messo il carbonato di cicero. La messo di cicero a moda. E come no? Come no? Ti ho pulito i cicero e puoi aspettare fino a mezz'ora non puoi aspettare. E se? Carmi no? E no? E già? E va bene? E va bene? Ma non ti dice far piacere il sogno? In effetti Mariangelo sta pensando ancora a cicero quindi. Carmi no si scende a due minuti un po' come una caduzione piatta di un codo e va a cercare e quasi rupe il corpo e gli acetti. Proprio mentre Mariangelo memore delle carezze strappate a franciscuzzo sussurra all'orecchio del carbonuzzo dormitore mi fa nascere e così mi fa nascere e così mi fa nascere Mariangelo nella solitudine disperata della sua metà du letto matrimoniale torna strenuamente ai suoi ricordi strepide che all'occhio che all'occhio piassone carmeneddu nella penombra riapre un occhio un occhio torvo d'amoro di Venezia e chiaramente in silenzio demolisce la sua propria prestanza pensa maleditta maleditta sussurra a se stesso non è stata ripatta chi si soppatta come si può scrivere ha detto mi fa nascere pace e così mi fa nascere pace parlava con un altro adesso è onesto ma io non posso dire niente da sui cazzi paesi chi ne sa può parlare e chi ne parla può sapere ma buono buono che se ne fitte domani vai a Catanzaro con i compagni di me a vedere Catanzaro e Verona e se vincere restiamo in Serie A e mi dormo che prima e gli raccogliono un po' che non sta raccoglata e poi via tutto a Catanzaro in Serie A a Catanzaro